felice ragazzo fidere a me commento, like e condivisione per continuare a portare le reaction sul rap sul nostro canale arriviamo a 20.000 like e perlomeno 1000 commentini ciao supreme tu che ci conosci benissimo anche di persona e siamo sempre andati in giro a berci gli sprizzini mi raccomando paga il conto perché se no non posso più andare al bar andiamo subito a fare la reaction in questo piccolo video che state vedendo c'è solo la reaction se volete il video completo questa sera alle 19.30 su questo canale hai già detto troppe cose vai ah classico il suo videocartone sta ascoltando oltretutto la sua vecchia canzone guarda che mi piace tanto questo immaginario suo autotune sempre wow che flow sulla base gira sterza oddio è diventato justin bieber con il brano non so però è un alieno vola altissimo nelle galassie perché fuma e quindi vola ah ma va drogato ah figo non l'ho capita va a casa sua sulla luna ah ho capito angel table la ficca spazio temporale ah adesso si fonde in uno capito che malato è il video figo poi pesce è andato a dormire ma era in mano si sott'acqua non si fuma sott'acqua chill poi mezza d'amore parla sempre tanto di se stesso ah rientra nella sua anima di killer e morte così e lì vede la sua casa sulla luna idea concept bike raccon studio pietro polec oh che bello tutto al contrario l'ha fatto wow zah malati non sono abituato asfidio ragazzi se volete la reaction completa la potete vedere questa sera quindi vi aspettiamo a 17.30 per gli altri avete visto le faccette contenti e la posta così ciao